suoli eccoci qua con la regia caglia e il nostro piccolo terror saluta ciao a tutti siamo qua con con la nostra torta per festeggiare i tre anni del canale ragazzi sono passati tre anni quando aperto il 29 dicembre 2018 questo canale che l'ho aperto un po anche per fare colpo con la regia caglia per far vedere che faceva le recensioni ci sono riuscito penso di sì che ci abbiamo qua il nostro piccolo patato niente ragazzi come è andato dall'anno scorso che ho riaperto il canale che come sapete anzi forse alcuni non lo sanno perché quando mi sono fermato 40 iscritti mi ero fermato per un anno intero poi dopo un anno ripreso tutto anche la regia caglia mi ha spinto dice continuo a fare i video ritorno a fare le rivenzioni e da quel giorno in poi che è stata la scorsa estate ho ripreso e non mi sono fermato più e non mi fermerò gli alcuni traguardi non siamo riusciti a raggiungerli come iscritti non siamo riusciti ancora ad avere il contratto diciamo non siamo arrivati a questi fantomatici mille iscritti se non l'avete già fatto iscrivete al canale dateci una mano però abbiamo posto una bella community di persone che ci iscrivono sempre ci stanno sempre vicino ogni video che noi mettiamo come angelo ignazio antonio tofani dalene torrisi ciccio formaggio ciccio formaggio indimenticabile lui uno dei primi sostenitori ormai anche adepti come antonio tofani che è adepto di dottor dracula ci avete accompagnato ogni giorno e io vi ringrazio ragazzuoli vero vero alcuni mi hanno regalato pure il film altri di voi mi hanno regalato i film anonimici non so chi cazzo mi hanno regalati non si sa ma a parte questo ragazzi mi fa piacere che ogni volta si può sempre discutere e parlare di ogni film alcuni non sono d'accordo chi mi viene incontro chi si disiscrive chi mi minaccia diciamo hai parlato male dei film mi tolgo l'istruzione ma ragazzi il canale è fondato su questo sono leccare il culo e essere sempre me stesso almeno quando venite qui nel mio canale sapete che da me non non vi dico cazzate non non vi spaccio qualcosa di bello perché mi hanno regalato mi è stato commissionato e quant'altro io ringrazio anche salvuccio che oggi è assente però rimarrà sempre nei nostri cuori vabbè scusa mica è deceduto che dici così no sabbo è vivo lui è immortale ah no che dici così scusa no no ma dire nel senso che anche se non c'hai per me sabbo è sempre dentro di me certo certo ma non dentro di me in quel senso vabbè meglio lasciamo perdere lasciamo stare ciao salv ciao salvuccio ma è molto impegnato noi pure noi con certi impegni non sapevamo neanche oggi se riusciamo a fare qualche cosa devo fare dei speciali che arriveranno in questi giorni per i tre anni di alcune toppe e quant'altro quindi un saluto anche a salvuccio che c'è stato in tanti episodi ma vorrei far entrare anche un ospite in questo momento dovrebbe dire anche la sua che è entrato da poco no aspetta se ci aspetta se è quello che penso io lascia stare non lo farà entrare perché è un maniaco buonasera mamma mia ma perché l'hai fatto venire come va eh bene anche a me qua la porta no cosa c'è no scusi scusi le manacce no ma no la devi aprire Ivan l'avrò io la porta ma che so non lo so proprio io sono un essere superiore che maleducazione io non lo so la faccio vedere penso che l'hanno vista sì perché la voglio mangiare la vuole mangiare oh che bello tutte quelle questa colata di sangue no così che stifo non posso no non può lei vuole leccare ogni cosa si vergogni arriverà eh anche uno speciale mio di tre anni anche se non c'ero appunto lei non c'era non capisco perché devi fare questo speciale però perché io sono speciale lei speciale lei me l'hanno sempre detto anche a scuola a scuola lei andava ai tempi ai tempi ai tempi quando si scopava lo sa cosa come disse Totò ma mi faccia il piacere sì per favore ma se ne vanno non si permette no per carità devo andare ho una scopata ho una su Tinder ho una su Tinder tutto il zocco lo adesso lo stanno se ne vanno arrivederci ma che è successo ma io non cazzo sai mi allontano un attimo e qua mi fai uscire pure la torta fuori ma devo essere io io l'ho fermato c'è il bambino in braccio a me la bottina non la stappata la stappo io ragazzi non fa cadere niente però per i tre anni speriamo che almeno ci arriviamo a questi mille iscritti fate iscrivere pure le nonne le zie fate iscrivere il nonno il nonno andate prendete i telefoni dai parenti ora che vengono a capopanno gli amici i parenti le ex fidanzate gli ex fidanzati ma non penso che di là fate fate anche di là se no fai qualche omicina qualche parente morto che avete ancora accesso al loro cellulare fate iscrivere pure loro no si vuoi scrivere tutto ormai pure le persone anziane sono super tecnologiche piano ce la fai ce la faccio io ce la fai ce la fai ce la fai sei salvo impegnato non vuoi lascia stare fai tu dai l'ascesa il dottor drago non mai porca impaziente impaziente ce la facciamo colpiamo il telefono si romperà no scusa vedi mettiti di là piano eh ora si lamenteranno delle riprese come riprendi male ragazzi pagatemi qualcuno e le riprese saranno migliori mamma mia sto per arrivare penso 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 pensi? mamma mia penso che è pronto ok vai ha fatto una gran bellissima cotta vai ragazzi io vi saluto e vi ringrazio e questo ma il bicchiere di plastica non si può neanche incinziare i fluttu questa sera non c'erano è stata una cosa improvvisa lo sai ragazzi alla vostra salute per chi so merita sempre si ragazzi ti aspettavo di tante recensioni tante top e alla prossima spero che vi sia fatto piacere che vi siete sentiti come fosse stati qua vicino a noi parte della famiglia si ragazzi vi voglio bene e alla prossima ciao a tutti